Ciao a tutti e a tutte, sono qua con l'assessora La Pietra, Maria, e volevamo raccontarvi un pochino della rivoluzione che stiamo iniziando a fare sulla questione della tarifazione, che riguarda ovviamente i biglietti e gli abbonamenti del trasporto pubblico locale. Si è discusso molto in rete in questi giorni e abbiamo presentato quello che è sostanzialmente il nuovo assetto, sono arrivate anche tante domande, stiamo rispondendo a ciascuno di voi, ma ci tenevamo a prenderci qualche minuto per spiegarvi in diretta quali sono le motivazioni, come verrà trasformata questa nuova rete di trasporti anche in termini di bigliettazione. I principi li abbiamo già detti velocemente, la prima cosa è di semplificare, quindi semplificare le forme di biglietti e ridurle per essere anche in qualche modo più attrattivi, in modo tale che sia più semplice districarsi tra le varie forme. Abbiamo fatto un intervento importante sui giovani, che sono coloro che vogliamo avvicinare in particolare l'utilizzo dei mezzi pubblici e poi abbiamo eliminato i confini, cioè si parla spesso di città metropolitane, giustamente una città deve essere sviluppata in ottica metropolitana e quindi la nuova tariffazione tiene conto di tutto il territorio metropolitano, quindi urbano e suburbano, come è giusto che sia, visto che ormai non possiamo pensare che esista solo Torino, ma dobbiamo ragionare in ottica di città metropolitane e quindi tutto il suo territorio. E l'altra grande novità, che riteniamo essere una forma importante anche di ridistribuzione, ma anche politica, è l'introduzione delle fasce ISEE nell'ambito degli abbonamenti. Comunque adesso Maria vi spiegherà un pochino meglio e vi darà qualche dettaglio in più. Sì, allora buongiorno a tutti, io inizierei anche da qualche domanda, qualcuno è stato un po' critico, dice basta trasporti parliamo di lavoro. Abbiamo pensato anche a questo, proprio per i giovani, soprattutto i disoccupati, che oggi sono obbligati a pagare il prezzo pieno, quindi 310 euro, da domani invece avranno delle tariffe agevolate. Non solo i giovani residenti di Torino, ma anche i giovani fuori Torino nella rete della città metropolitana avranno delle cifre agevolate e in città potranno avere delle cifre ancora minori, degli abbonamenti in base al ISEE, questo è molto importante. Quindi tutti i giovani fino a 26 anni, studenti e non studenti. Mi interrompo un attimo perché qualcuno si lamenta dei pullman vecchi e avete ragione. Mi rendo conto che il nostro parco mezzi è sicuramente vecchio e anche inquinante, infatti uno degli elementi del piano industriale che sta iniziando è proprio l'acquisto di nuovi bus e nuovi mezzi, ci saranno circa un po' meno di 500 pullman nuovi, la prima parte entrerà già in funzione e quindi sarà per strada entro fine anno, la seconda parte entro metà 2019 arriveranno 40 tram, un investimento di 75 milioni di euro, però quelli ci mettono un po' di più. Sappiamo benissimo che l'attrattività del trasporto pubblico dipende anche dai mezzi, dalla comunità dei mezzi e sappiamo bene che abbiamo ancora dei mezzi molto inquinanti che circolano e che spesso si rompono, questo rende anche meno efficiente il servizio. Vai Maria puoi continuare, intanto rispondo a qualche domanda. Sì, un'altra domanda che ci fanno spesso e ce l'hanno fatto tutto quest'anno e mezzo trascorso è perché non ci fatti usare la metropolitana tutte le volte che si vuole? Con questo nuovo biglietto daily a 3 euro si potrà usare... Che oggi costerebbe 5, quindi lo riduciamo. Esatto, si potrà usare tutta la rete tutto il giorno e con tutti i mezzi che si vuole e non solo, ci saranno molti daily, da 7 daily, quindi 7 giorni non consecutivi, quindi non è un abbonamento settimanale ma 7 giorni quando si vuole nell'arco dell'anno e che costerà 17,50 euro come il carnet, quindi a prezzo di 2,50 euro si potrà usare tutta la rete, tutti i mezzi, tutto il giorno. Scusa Maria, mi inserisco perché qualcuno chiede del biglietto 1,70 così lo spieghiamo un attimo come funziona e una cosa sull'ISEE che state scrivendo in tanti, chi non dichiara eccetera. L'ISEE è oggi l'unico strumento che ha l'amministrazione e ha la città ma tutti gli enti per verificare la capacità reddituale di una persona e noi riteniamo che in un momento di crisi, difficoltà sia corretto che si utilizzi l'ISEE perché bisogna cercare di aiutare chi è più in difficoltà e quindi chi ha un'ISEE basso. Sappiamo che ci sono dei limiti legati all'ISEE ma oggi è l'unico strumento che noi possiamo attuare. Maria, magari sull'1,70 che ci chiedevano? Sì, allora noi appunto per avere una rete unica abbiamo tenuto il biglietto unico, rete unica a 1,70 euro, è vero che abbiamo abolito l'euro e 50 ma proprio per incentivare sempre di più il daily e molti daily, quindi per incentivare le persone che usano più volte al giorno o almeno due volte al giorno la rete. Ci chiedete, rispondo in diretta, metropolitana, come sapete stiamo lavorando su linea 1, sono arrivati le risorse per i prolungamenti e quindi si va avanti, Maria vi spiega meglio e ovviamente stiamo andando avanti sulla progettazione preliminare della linea 2 ci sono i 10 milioni di euro che serviranno per la progettazione preliminare e anche quella esecutiva. Sappiamo che è un intervento importante in particolare per Torino Nord che ha bisogno di essere riqualificata e una linea di metropolitana sicuramente sarà uno degli interventi che permetterà a quella parte della città e non solo di acquisire valore e tornare a essere in qualche modo più parte della città. Sì, per quanto riguarda la metropolitana l'anno prossimo avremo finalmente la metropolitana Sina Bengasi ieri sono stata al Ministero a Roma per questi nuovi fondi, per arrivare invece con la metropolitana della linea 1 fino a Livoli quindi questo è molto importante. Grazie a chi mi ha consigliato di togliere il dito dal microfono, scusate. E poi un'altra cosa importante per quanto riguarda la manovra tariffaria che volevo sottolineare è che gli abbonamenti invece mensili, settimanali, annuali per ora non subiranno nessuna modifica e domani cercheremo anche per questi abbonamenti di andare verso tariffe agevolati in base all'ISEE ma per ora rimangono identici. Il carnet, ci state chiedendo del carnet, non è che scompare il carnet, c'è una forma di carnet diverso che adesso magari Maria vi spiega un pochino meglio. Sì, come dicevamo prima il multidelica, quindi costa come il carnet di oggi, dalle 15 corse a 17,50 euro e quindi le persone con 2,50 euro potranno utilizzare, come dicevamo prima, tutto il giorno tutti i mezzi che vogliono quindi molto molto più utile del carnet di prima perché di solito se uno faceva due viaggi in metropolitana nella giornata era costretto a sprecare due biglietti. Qualcuno suggeriva perché non ci sono accordi con le aziende private per incentivare GTT l'utilizzo dei mezzi pubblici in realtà GTT lo fa già questo, quindi cerco ovviamente con le imprese, le aziende sul territorio di incentivare l'utilizzo dei mezzi e tra l'altro una delle figure chiave in tal senso è il cosiddetto mobility manager e anche insomma si sta cercando di sensibilizzare anche in quell'ottica lì. Qualcuno ci ha chiesto come mai i diesel, scusate non ricordo i nomi perché vi leggo in diretta, qualcuno ha chiesto come mai i diesel e non i bus elettrici. Su questo GTT ha fatto una nota che spiega chiaramente quali sono le motivazioni. In questo momento noi abbiamo un parco mezzi, come dicevo prima, assolutamente molto 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 vecchio e quindi avendo acquisito e acquisendo una parte di Euro 6, una parte di metano, correggimi se sbaglio Maria e i 40 tram che invece sono tutti su tramviario, in particolare sulla parte Pullman questo ci permette di poter sostituire un maggior numero di Pullman che oggi sono molto più inquinanti perché sono molto molto vecchi, quindi abbiamo deciso di avere, GTT ha fatto le valutazioni ovviamente e dal punto di vista ambientale ha un impatto maggiore di sostituire più Pullman, in particolare quelli molti vecchi utilizzando gli Euro 6 e il metano che non significa però che non investiamo sulla rete elettrica e sull'elettrito tant'è che come sapete abbiamo circa 20 Pullman elettrici che girano, ne arriveranno altri 6 e stiamo investendo molto sulla rete tramviaria, tant'è che siamo riusciti col governo, grazie al governo a ottenere 75 milioni di euro che ci permetteranno di acquisire 40 tram che ci vorranno circa due anni o due anni e mezzo per riuscire ad avere in strada, corretto? Esatto, esatto. Un'ultima cosa, leggo tanti di voi che dicono più controlli più controlli, giustissimo faremo delle campagne di controllo sempre maggiori con un numero sempre più elevato di controllori su ogni mezzo proprio per disincentivare i portoghesi ma questi nuovi titoli di viaggio servono proprio per questo perché avere in tasca un biglietto singolo induce di più l'evasione, invece se si ha un daily e si gira tante volte al giorno un controllore durante la giornata lo si trova e quindi è proprio per questo che abbiamo introdotto il daily e il multi daily. Ora, ci sono molte domande specifiche, quindi noi abbiamo già fatto ieri un post e abbiamo dato già informazioni rispetto alle singole tariffe, abbonamenti e bigliettazione ma continueremo a spiegarvi meglio ovviamente i dettagli di questa rivoluzione perché di questa si tratta, tra l'altro si avvierà in modo scaglionato quindi non è che avviene domani, ovviamente daremo tutto il tempo per capire, imparare i torinesi non solo torinese, conoscere quelli che sono i nuovi biglietti e nuove tipologie di abbonamenti che sono presenti e per qualsiasi cosa ovviamente potete scriverci e chiederci noi cerchiamo di rispondere per quanto possibile. Grazie. Grazie a tutti e buona giornata. Ciao!